quando parliamo di girl power adesso una carrellata non so se vi può bastare angela mi amano stefi guardate guardate samantha erika no che cosa è no capito ma siete sempre appiccicate basta siete stati sei mesi insieme ma non c'è ancora vi sopportate no 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 quanto siete belle paparazzi ho pure il paparazzo oppure non ce lo manca niente allora basta basta sono sei mesi che li stiamo seguendo l'acqua e io ci ho avuto pure a pranzo senza filtro e senza inganno no ma ora senza filtro non esageriamo abbiamo pasteggiato a ora il ristorante più spiato d'italia vi rendete conto guardate il ristorante più spiato d'italia eccolo qua il caminetto sorellanza sorellanza